Rai News 24, la diretta è il mio mestiere, quindi queste sono le cose più normali che accadono. Dove risolvere il problema in tempo reale. Ok. Allora, buon pomeriggio a tutti voi che siete qui in Sala Perugino, a Perugia, Festival del giornalismo 2016, e un saluto a chi ci sta seguendo in streaming. Questo panel parlerà di un tema che troverete molto ricorrente in questi giorni, cioè una parola ormai abusata e utilizzata. Noi cercheremo di declinarla sul fronte del video, del video online. La parola è storytelling. Proveremo a raccontarvi alcune soluzioni legate allo storytelling dai grandi del mondo. I grandi sono i grandi network editoriali e le grandi proposte che arrivano davvero da ogni parte del mondo. È strutturato in questo modo una prima parte di introduzione, molto breve, del sottoscritto, e poi lascerò la parola invece a Celia Guimaraes di Rai News, che ci farà vedere alcuni esempi legati proprio a questo video storytelling in giro per il mondo. Io sono un comunicatore, un giornalista. Mi piace definirmi anche storyteller, anche se questo attirerà l'odio da parte di molti di voi, soprattutto quelli allergici alla parola storytelling. E ho fondato sette anni fa il premio Teletopi, che è un premio dedicato al video storytelling in diverse categorie. Il sito è teletopi.it, è nato con Carlo Freccero, che all'epoca era direttore di Rai 4. Oggi il presidente di giuria è Carmen Lasorella, ed è un premio che si tiene all'Università di Bologna ogni anno a dicembre. Alcune slide soltanto di introduzione poi al tema e vedrete molti casi concreti. Noi di fatto oggi parleremo in questa ora insieme di come si stia spostando lo storytelling e l'utilizzo del video attraverso le relazioni. Quindi ci spostiamo di fatto dai contenuti e le relazioni, è quello che ci suggerisce Jeff Jarvis, che dice che il business dei media deve arrivare alle relazioni e non più soltanto passare attraverso i contenuti, seppur preziosi e seppur segmentati. Un altro Steam, ah qui spero, aspetta, vediamo un attimo, no? Ritorna tu, il Mac, il Mac, siamo due linguaggi diversi, torna qui mentre scorri le slide. Poi ci capiamo lo stesso, perché c'è il linguaggio universale della rete, non dell'amore, ma il linguaggio universale della rete ci fa comprendere, però tra Apple e Microsoft ci sono mondi comunque differenti tra loro. Altro stimolo, la maggior parte delle organizzazioni dedica il proprio tempo a vendere a una folla, lo storytelling oggi è adottato anche da tante realtà multinazionali, piccole e medie imprese, e Seth Godin, guru del marketing, ci suggerisce di andare verso le community, le tribù e soprattutto verso le micro tribù che popolano la rete. Terzo stimolo, però è complesso così, se scorre così... Ok, allora faccio soltanto questa piccola introduzione e le altre proviamo a risolverlo in corso d'opera. Terzo stimolo ci arriva dal papà di Facebook, Mark Zuckerberg, che ci dice che non si creano le comunità, le comunità esistono e fanno ciò che vogliono, esistono a prescindere. E in realtà in questi progetti di storytelling cercheremo di capire come i grandi editori hanno cercato di intercettare le loro community di lettori. Vediamo se riusciamo ad andare avanti con un'altra slide e poi altrimenti ti passo la parola, la tua presentazione credo sia settata però sul Mac, quindi... Ok, elementi chiave dei progetti di video storytelling che vedrete di fatto oggi, io tra l'altro sento un microfono che... Vero? Un po' cupo, però questo vi dicevo il primo workshop qui in Sala Perugino, quindi ci stiamo settando. Elementi chiave, l'ingaggio, la verticalizzazione, il tema della multipiattaforma, la capacità di raccontare una storia attraverso più formati e attraverso più progetti che si evolvono tra loro e dialogano tra loro anche con linguaggi che in qualche modo cercano di evolversi. E poi, altro elemento essenziale è che questo storytelling in video realizzato dai grandi del mondo deve essere soprattutto mobile first, quindi deve essere soprattutto usabile per un pubblico che di fatto utilizza smartphone e tablet. Alcuni esempi, soprattutto esteri, di fatto mi viene da dire Celia, fanno emergere questa preponderanza dell'utilizzo del mobile. Mi fermerei qui, ti farei vedere, ti farei cedere a te la parola con la tua presentazione che scorrerà liscia come l'olio essendo già mechizzata e poi magari torniamo, dopo i tuoi esempi, ad alcuni consigli di costruzione di questi progetti di video storytelling. Allora, microfono di qua. Dunque, io partirei con questa presentazione che avevo già fatto ma poi ho aggiornato. Vi lascio guardare questo video. Magari sentite l'audio? Qui, naturalmente, stiamo parlando della guerra in Siria. Questo video è Vox, che è un video che voi come conoscete. è un media molto nuovo nel panorama perché non si occupa di informazione mainstream, cartacea, televisiva. È un media pensato proprio per il web, soprattutto per il web. E in questo video, io ho ridotto un pochino le presentazioni a un minuto. Questo video in realtà dura 5 minuti e 24 ed è stato pubblicato il 14 ottobre del 2015. Ha avuto 2 milioni di visualizzazioni e che vuol dire che la gente nel 2015, almeno dal 14 ottobre 2015 e in crescita, le persone hanno cercato di capire che cosa stava succedendo in Siria. Questo invece è AJ+. AJ+, noi abbiamo conosciuto anche i ragazzi di AJ+. Anche qui a Perugia l'anno scorso. Vi faccio vedere come loro hanno raccontato o hanno cercato di raccontare la guerra in Siria. Un minuto anche qui. Un minuto anche qui. Un minuto anche qui. Il minuto anche qui. UK, Turkey, UAE, Jordan, France, and Saudi Arabia have all carried out airstrikes against another side in the war, ISIS. And Turkey has also bombed Kurdish targets inside Syria. So, is it any surprise that the war shows no signs of ending anytime soon? 25 settembre 2015, quindi praticamente in contemporanea con quello di Vox. Mentre quello di Vox diceva la guerra in Siria, chi sono i contendenti e perché c'è la guerra, questo invece JJ Plus chiede una domanda molto più specifica e se vogliamo impegnativa, perché nessuno vuole fermare la guerra in Siria. JJ Plus è Al Jazeera Plus, come sapete, c'erano i ragazzi che hanno presentato questa piattaforma anche qui a Perugia l'anno scorso e il loro video ha avuto molto meno visualizzazioni rispetto a quello precedente, a quello di Vox. E quindi raccontare la guerra in Siria è stato un problema da quando è aumentato l'arrivo di profughi, di persone che cercavano di fuggire in Europa e quindi abbiamo visto una serie di tentativi di storytelling per spiegare perché questa guerra, che non è cominciata adesso, non è cominciata nell'ottobre o nel settembre scorso, perché questa guerra sta andando avanti, cosa si sta facendo per fermarla o nel caso che cosa non si sta facendo per fermarla. Ecco qua. Invece il Guardian, adesso vi faccio vedere un piccolo storytelling del Guardian, la guerra raccontata in cinque minuti. Io ho ridotto questi video, vi dico per la precisione, io ho ridotto tutti i video a un minuto per brevità anche di esposizione e anche qui il Guardian, che non ha bisogno di presentazioni, cerca di raccontare con lo storytelling e anche con una timeline fisica perché si è arrivati a questa situazione. che si è arrivato con la morte di Muammar Gaddafi, Siria è una storia. Questo è Bashar al-Assad, presidente di Siria. Il suo padre, Hafez, ha riuscito per 30 anni, durante il cui ha modernizzato il paese, ma al costo di una brutale repressione. Bashar è arrivato a la potenza dopo la morte di suo padre in 2000, e al primo, ha signato che sia un tipo di leader differente. Ecco, come vedete, anche qui lo storytelling si basa su elementi grafici, su disegni, su mappe, come hanno fatto anche gli altri, però per la precisione, questo video qua arriva due anni prima di quelli che avete visto. Quindi questo del Guardian era già un tentativo di raccontare la guerra in Siria, avvenuto nel 2013. In realtà, questo video del Guardian, visto in parallelo con gli altri, quindi a fine 2015, è stato visto, ha avuto 700.000 visualizzazioni. Quindi, vi rendete conto, forse, che un tentativo del Guardian di storytelling sulla Siria, fatto nel 2013, non ha destato molta attenzione. Due anni dopo, tentativi di raccontare la guerra in Siria, fatti da altri media, quando la situazione era esplosa in tutta la sua drammaticità, sono state viste da milioni di persone. E questo ci potrebbe far interrogare anche sull'efficacia del mezzo. Allora, questa qui, invece, è il tentativo più riuscito, almeno secondo i grandi numeri, di spiegare la guerra in Siria. Dura dieci minuti, lo ridotto sempre a un minuto, ve lo faccio vedere, magari lo conoscete. La guerra in Siria è la polla, la civilizzazione del planeta empieza in tre siti e questo è uno di loro. Mesopotamia, qui. Sumer, che ti sonerà meno, però è il punto inizio di tutto, qui, anche. Ricordati la torre di Babel della Biblia? La hicieron questi tios. Egipto, qui. Siempre ha sido un punto di contatto entre ori e... Ecco, Why Siria è un tentativo fatto da un'organizzazione no profit spagnola che ha fatto questo racconto dieci minuti e quindici mappe disegnate come se fossero semplicissimi post-it, come avete fatto, come avete visto. Questo contenuto è stato talmente viralizzato che è stato poi tradotto in quasi tutte le lingue del mondo. Se cercate Why Siria su qualsiasi piattaforma, come può essere YouTube, troverete i video uguali a questi, fatti con la narrazione in tutte le lingue, compreso l'italiana naturalmente. Gli autori dicevano che prima di... Anzi, le visualizzazioni, parlo di dicembre, erano arrivate a 4 milioni. Quindi sicuramente molto più di tutti gli altri contenuti che abbiamo visto prima, messi insieme. Quelli che hanno creato questo video, questo video storytelling, diciamo, hanno detto che prima di dare un'opinione noi dobbiamo informarci. E questo video è un qualcosa che vuole essere puramente informativo per fare in modo che... E questo è l'originale in spagnolo, quindi mi scuso per la traduzione imperfetta. Questo tentativo è stato fatto per far sì che le persone possano avere un proprio giudizio e arrivare a delle conclusioni che in certi casi possono essere semplici opinioni. non verificabili. E quindi queste mappe non sono, dicono gli autori, il modo di parlare del dolore delle persone. Non è un modo emozionale di raccontare la guerra in Siria. E forse serve anche quello. Adesso noi andiamo a vedere una cosa completamente diversa, forse più divertente. Video storytelling neanche recente. Anche questo l'ho montato e ridotto a un minuto perché è molto più lungo nella sua visualizzazione e soprattutto non ha la musica. Questa è The New York Times Magazine, come state vedendo. Non so se... Scorre un po' velocemente, ma forse riuscite a capire che sono delle foto di Rio, di Brasilia, di città brasiliane, con sopra dei disegni. Sono gifio animate. Questo è un modo di fare storytelling che è molto diffuso e anche molto interessante per la sua semplicità. Perché l'autore di questo storytelling è un grafico che per New York Times Magazine ha raccontato, prima dei mondiali del Brasile del 2014, ha voluto raccontare quello che chiamano il maracanazzo, vale a dire la grande sconfitta del Brasile nelle finali dei mondiali di 1950, che furono i primi mondiali ospitati dal Brasile. Si vede che il Brasile non porta fortuna ai propri calciatori, alla propria squadra. Insomma, raccontava questa storia Moassir Barbosa, che era il portiere della nazionale brasiliana, il portiere che fu considerato irresponsabile della grande sconfitta brasiliana del 1950 e il racconto di New York Times Magazine ripercorreva tutta la biografia di questo calciatore, di questo portiere e raccontava anche la sua discesa all'inferi, per modo di dire, perché dopo aver perso ingloriosamente nel 1950 la partita finale, questo portiere finì, morì in maniera molto triste, molto giovane, dimenticato da tutti. E quindi quello che si interrogava questo collega del New York Times Magazine era, riuscirà il Brasile a rifarsi? Questa volta il risultato lo sappiamo e quindi probabilmente è meglio che in Brasile non si tengano più mondiali di calcio. E' molto interessante invece vedere il parallelo che c'è tra quel video della carriera di quel calciatore e questo video che è uno storytelling bellissimo, ma attenzione, qui stiamo parlando di pubblicità. Un minuto anche per il gioco prima del gioco, si chiama ed è di una casa produttrice di cuffie e tutti quanti probabilmente la riconoscerete. Ecco, qui c'è una tipica favela, grande calciatore, grande campione, arrivo allo stadio e la voce, noi vediamo qui la sovrascrittura in inglese, il padre che parla al telefono con questo figlio, grande campione. Questo video è pubblicitario, ma è uno storytelling perfetto e perfettamente sovrapponibile a quello che abbiamo visto prima, la storia del grande calciatore che si trova ad affrontare una prova molto impegnativa. Anche per lui non è andata molto bene. Questo video di pubblicità è stato visto, adesso vediamo i numeri, siamo a 30 milioni di visualizzazioni e sto parlando della fine del 2015. Questo video advertising che andò prima dei mondiali è stato più visto di tutti i video storytelling sulla Siria che noi abbiamo cercato nello stesso periodo. Quindi il potere dello storytelling anche quando raccontato dalla pubblicità secondo me merita un po' di attenzione. Non perché si stia parlando di pubblicità o di prodotti o di aziende che hanno molti soldi, ma perché la formula di comunicazione funziona, è molto empatica, è molto immediata. La cura dei particolari poi qui è maniacale. Allora, raccontami la tua storia. Questo non è un video. È quello che abbiamo sentito dire anche da un grande storyteller che non è assolutamente un giornalista, è un grande comunicatore, è un regista. Sto parlando di Oliver Stone che è venuto in Italia per la prima volta l'anno scorso per spiegare, per una conferenza proprio sullo storytelling, perché lui è considerato il grande narratore dell'America, degli Stati Uniti. La prima cosa che lui ha detto e che ha colpito molto il pubblico è io non racconto la storia dell'America, io racconto la mia storia. Io ho vissuto tutte queste cose. Io sono nato nel 1947 e tutte queste cose che poi sono diventate i miei film sono state le storie della mia vita, le cose che ho visto, che ho assistito e che ho seguito. Quindi, quando è venuto a leggere di storytelling Oliver Stone, naturalmente ha parlato dei suoi libri ma ha parlato soprattutto di sé, ha raccontato qualcosa dal suo punto di vista, il punto di vista emozionale, così come nella pubblicità, anche nel cinema, conta moltissimo, come sapete. Ecco, l'America è la mia storia. Questi sono i tweet che Oliver Stone ha fatto durante la sua presentazione per ribadire il concetto che bisogna parlare in modo emozionale. qui stiamo parlando di qualcosa cui ha accennato il mio caro Gianpaolo e predominio dello smartphone. Questo è Andrea Rangone che allora era il Politecnico di Milano, è venuto qui per fare una serie di conferenze e ha detto una cosa che ha fatto molta impressione a tutti i presenti. Lui ha detto guardate questo oggetto qua, questo, che tutti quanti abbiamo in tasca anche più di uno è la nostra cassetta degli attrezzi. Tutto quello che ci serve sta qui dentro in questo momento. Noi col telefono parliamo, giochiamo, ci informiamo, navighiamo, tutto quello che ci serve per portare avanti le nostre conoscenze, le nostre relazioni, i nostri social, sta dentro questo oggetto. Quindi sempre più il predominio dello smartphone sarà una realtà nella vita delle persone ma non solo perché le cose stanno andando avanti e forse in maniera che è molto veloce. Raccontare uno storytelling che vada bene per lo smartphone è molto importante perché il pubblico che ascolta un videoracconto preferisce farlo sullo smartphone. Lo smartphone ormai è quasi ubiquo ed è una cosa che noi come giornalisti dobbiamo stare molto attenti a queste evoluzioni tecnologiche. Io mi occupo di tecnologia, sono un po' fissata con questi argomenti. Mi piace pensare ai futuri sviluppi della tecnologia che ci stanno arrivando e arriveranno ancora altri in tempi molto molto brevi. Quindi ecco stiamo parlando di nuove frontiere. Queste sono cose che io ho introdotto le piccole novità che ho introdotto nel racconto di storytelling. Queste nuove frontiere, queste novità di cui stiamo parlando sono le cose che sono andate per la maggiore al Mobile World Congress di Barcellona che c'è stato nel febbraio scorso. noi abbiamo visto il potere di questo oggetto. Questo è un banalissimo oggetto in plastica con un visore con due lenti all'interno. Molti di voi sicuramente l'avete già provato. Si stacca questa mascherina, si inserisce lo smartphone qui dentro e puoi vedere il mondo in 3D. Ci sono anche visori come quello collegati invece via cavo ad un computer hanno una potenza molto maggiore nel ricreare la realtà virtuale. Quello che state vedendo la foto che state vedendo in basso a sinistra è un contenuto video per esempio fatto in realtà virtuale per quel tipo di dispositivo ma è già pensato per giornalisti noi abbiamo già come potete vedere BBC quella di sotto credo che sia del Guardian c'è anche New York Times si stanno producendo contenuti in realtà virtuale per quel tipo di dispositivo perché ci consentono per esempio come vedete questa immagine in basso a sinistra quella è la guerra in Siria invece di raccontarla con uno storytelling un video accattivante bello io invece racconto con un dispositivo che mi consente di essere lì di essere in mezzo alle macerie di essere in mezzo alle persone di essere di avere una visuale a 360 gradi sopra e sotto di tutto quello che sta accadendo e secondo i giornalisti che stanno cominciando a sperimentare questa formula di storytelling la realtà questa realtà è talmente immersiva che ci toglie il fiato è stato proprio questo termine che è stato usato noi l'abbiamo visto a Barcellona moltissimi esempi di dispositivi per la realtà virtuale si stanno usando per le più diverse applicazioni quello di sopra che vedete in alto a sinistra è un seminario che si terrà adesso ad aprile in Inghilterra sulle potenzialità dei web doc vale a dire i documenti molti piattaforma che utilizzano la realtà virtuale si chiama iDocs come la i piccola iDocs potete cercarlo perché è una piattaforma molto interessante per capire anche i web doc molti piattaforma in basso a destra quello che vedete è un viaggio nella realtà virtuale su Marte io ho provato io ho guidato un Mars Rover come Matt Damon nel film cioè il Mars Rover con la realtà virtuale tu dovevi anche scansare la polvere che arrivava sono divertenti per giochi sono divertenti per tante cose ma soprattutto sono la cosa più vicina alla realtà in questo momento allora chiudo qua chiudo qua velocemente ecco vi faccio vedere anche questa cosa che ha fatto molto parlare dal punto di vista mediatico e ha generato una quantità di discussioni in rete e non questo vedete è Mark Zuckerberg che passa totalmente non individuato da circa 3.000 4.000 giornalisti che stavano seguendo la presentazione di Samsung nel caso bisogna dirlo perché lui è andato lì proprio per parlare della sua fede della sua fiducia nella realtà virtuale e sul fatto che lui crede che questo sarà il futuro io penso se dico Mark ha sempre ragione dico che finora Mark Zuckerberg non ha sbagliato un colpo finora quello che ha riuscito a fare è diventato un successo che si parli di Facebook che si parli di Whatsapp che si parli di Messenger lui è convinto che la realtà virtuale sarà sempre più presente nella nostra vita così come l'intelligenza artificiale queste foto che vedete sotto le ho fatte io sono colleghi che stavano lì a Barcellona per vedere questa presentazione ma la cosa curiosa è che la realtà virtuale era talmente immersiva quello che ci stavano presentando era talmente interessante ovviamente non era filtrata la notizia che Mark Zuckerberg sarebbe arrivato altrimenti qualcuno l'avrebbe aspettato a Varco invece se cercate in rete troverete solo questa foto in alto che è una foto fatta da un solo fotografo fortunato che in quel momento non stava guardando la realtà virtuale ora si dice ah sono tutti zombie secondo me no secondo me è stato l'effetto sorpresa magari una prossima volta non ci sarà in ogni caso Mark Zuckerberg si è divertito moltissimo noi anche un minuto di futuro 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 sta arrivando i robot storyteller chi è abituato a vedere le piattaforme di crowdfunding ha trovato senza dubbio alfa 2 sia su indiegogo che su kickstarter non sono robot veri e propri di quelli su cui si fa ricerca come facciamo ricerca di eccellenze in Italia Pisa Genova Roma abbiamo dei centri di eccellenza sulla robotica questi qua sono qualcosina che va un po' oltre il giocattolo ma non arriva a molto oltre il giocattolo però è un robot storyteller che ha un software in grado di leggere la favola della buonanotte per i bambini visto che è stato fatto il crowdfunding è andato benissimo perché le perk sono arrivate hanno anche superato le richieste questi robot cominceranno ad essere messi in vendita in Cina li stanno producendo in continuazione si chiamano robot omanoidi perché hanno fattezze umane e pensano che saranno nostri compagni di vita domestica perché saranno anche in grado di avere alcuni piccoli controlli vi ricordate quando vi parlavo di Rangone Rangone parlava di toolbox cassetta degli attrezzi questa qua e in realtà ci sono alcune ricerche di alcuni istituti come per esempio Cisco come per esempio Ericsson che dicono che nei prossimi cinque anni noi useremo di meno questo oggetto e useremo di più quell'oggetto e useremo di più oggetti come Alfa 2 che controlleranno non so l'umidità la temperatura ci accenderanno la tv quando arriviamo a casa accenderanno e spegneranno le luci potete vedere anche qui ci sono degli oggetti già pensati da aziende connesse e questo è l'internet delle cose Alfa 2 è un esempio classico di internet delle cose applicato all'uso domestico costerà anche poco a quanto mi dicono ecco queste sono le storytelling di altri mondi che avevo da raccontarvi ma soprattutto volevo suggerirvi di andare a cercare queste storie perché ce ne sono di bellissime e secondo me saranno il futuro della nostra professione grazie Celia Guimaraz grazie davvero abbiamo ancora del tempo e allora chiedo mentre facciamo qualche conclusione e lasciamo anche spazio a qualche domanda chiedo alla parte tecnica se può fare uno switch di computer così vediamo quelle slide che erano rimaste in sospeso e allora Celia straordinari esempi tra l'altro il robot storyteller e un po' forse anche noi robot che diventiamo robot con la realtà aumentata anche se la tua visione è più ottimistica che pessimistica rispetto al futuro alcune cose che colpiscono me ma non so anche voi se è lo stesso sicuramente il trattamento quindi la possibilità di utilizzare questo storytelling su vari formati Celia ci ha raccontato le infografiche le mappe i trattamenti video le gif animate una nuova estetica del video che non passa necessariamente attraverso i pixel con il video ma viene elaborata attraverso un lavoro differente e qui veniamo alle nuove professionalità che si aprono rispetto ai nuovi storyteller non più soltanto contenuto non più soltanto scrittura ma c'è un lavoro di analisi e forse un approccio anche nuovo verso alcune tecnicalità quindi degli skills specifici cambio microfono però lo giro fischia lo stesso questo va meglio insomma scontiamo l'adattamento della sala perché siamo i pionieri di questa sala oggi l'abbiamo inaugurata la sala perugino allora altri elementi che emergono long form oppure snack program cioè quale contenuto è migliore per fare uno storytelling sia dei grandi editori sia in realtà poi abbiamo visto dei brand e quindi progetti di advertising in realtà ad ognuno il suo storytelling e un po' adesso lo vedremo anche nelle chart che abbiamo a disposizione altri elementi Celia parlava dei numeri intesi come views quindi i video quanto venivano comunque fruiti e visti soprattutto sulle piattaforme di riferimento immagino sulle piattaforme di video sharing penso tu ti riferissi anche molto a youtube come lettura dei dati ma poi immaginatevi l'impatto di quei video sul coinvolgimento attraverso i social media penso a twitter in primis ma penso anche a facebook e penso anche a quei social che più riescono a valorizzare gli elementi fotografici di quei progetti di storytelling quindi in realtà la moltiplicazione del coinvolgimento di quei video è straordinaria anche oltre la parte di views sembra di stare un po' in una caverna fuori tutto perfetto fuori è perfetto e poi raccontare il proprio punto di vista qui c'è il ruolo del giornalista una volta non so voi vedo tanto pubblico molto giovane però in realtà si parlava del ruolo del giornalista a volte anche come straniato rispetto quasi in una posizione terza in una posizione neutrale rispetto alla narrazione qui negli esempi che abbiamo visto con Celia il giornalista storyteller si immerge in quelle storie le vive le fa proprie quindi in qualche modo diventa parte della narrazione stessa e forse racconta anche il suo punto di vista come avevi detto più lo fa più riesce a coinvolgere io non vorrei ripetermi ma quello che dicono quello che dicevano gli esperti in storytelling che non vengono dal mondo del giornalismo ma vengono dai due mondi dove lo storytelling funziona a meraviglia che sono la pubblicità e il cinema lo storytelling deve colpire la testa il cuore o la pancia questi sono i tre punti che dovete tenere presente quando raccontate una storia uno di questi sensi oppure l'insieme di queste cose fa di una storia una storia che sarà ricordata e allora la storia che sarà ricordata guardate che cosa scrive Forbes poche settimane fa sullo storytelling e sull'utilizzo del video ci dà sostanzialmente cinque regole che secondo me vengono molto bene per l'esempio dell'advertising forse un po' meno calzanti per il mondo dei grandi editori dei grandi network però sicuramente il punto primo che troviamo anche nel Guardian che ultimamente ha parlato di storytelling e anche delle regole di narrazione di chi si occupa dei social media per quanto riguarda lo storytelling è di dire la verità cioè c'è la verità prima di tutto che poi la verità però e questa è una domanda che porrò dopo a Celia è un punto di vista che di fatto è di parte nella narrazione poi c'è un approccio anche di inserimento di elementi di tipizzazione delle storie cioè le persone prendono vita attraverso questo storytelling e c'è quindi una caratterizzazione che deve coinvolgere l'audience che non è più passivo ma deve essere in qualche modo coinvolto e anche qui la domanda è che tipo di coinvolgimento c'è quando il prodotto storytelling è chiuso e finito lì e non lascia spazio al live streaming o non lascia spazio all'interazione in tempo reale e magari questo potrebbe essere anche un altro punto di discussione punto 4 cercare di segmentare la narrazione con un inizio un proseguimento della narrazione e una fine e poi non bruciarsi tutto subito nei progetti di storytelling che avete visto raccontati da Celia in realtà sono anche progetti e storie drammatiche però c'è l'idea di raccontare una storia lungo tutto il percorso narrativo che è concesso in quel tempo che è anche un tempo lungo in alcuni prodotti penso ad Al Jazeera ma penso anche un altro paio di casi che tu citavi e qui invece c'è l'idea comunque che per raccontare una storia quindi per parlare poi in realtà bisogna comunque mettersi di base in ascolto nel periodo in cui io ho coordinato il portale Che Futuro c'è stato questo post di Angela Morelli e questa frase mi ha molto colpito la capacità di mettersi in ascolto e quindi di mappare quello che è l'ecosistema prima di raccontare di fatto una storia ora corro velocemente poi lascio spazio invece per gli ultimi 10-15 minuti alle vostre domande ma anche alle tue risposte su quei due stimoli che avevamo visto prima vi ricordate che avevo detto del meeting dei teletopi noi ogni anno ci vediamo in quel di Bologna ho provato a mettere in alcuni tweet proprio li ho presi sulle riflessioni che hanno fatto gli ospiti di questo nostro meeting annuale a Bologna rispetto proprio al percorso di storytelling allora vado velocemente tanto poi queste slide in realtà le metteremo anche a disposizione c'è l'attenzione verso il destinatario e quindi l'attenzione verso un pubblico che sempre più avete visto anche all'inizio lo dicevamo specifico definito molto segmentato le famose micro community poi c'è questa ossessione per l'ascolto questa è molto uscita fuori con Freccero quando appunto ha raccontato l'importanza dell'ascolto di quello che avviene anche in rete un altro elemento che era emerso nel nostro percorso di storytelling sui contenuti è legato al predominio della tecnicalità che però deve lasciare spazio ai contenuti e qui forse troviamo un terreno fertile tra voi giornalisti tra noi giornalisti nel senso la capacità di partire dalle storie come capacità di racconto oltre che dagli elementi tecnici di narrazione vado avanti qui c'è la diatriba cosa funziona di più un percorso di storytelling lungo anche nel tempo come durata o quei moduli snack che noi possiamo fruire sul mobile anche in un tempo molto definito forse possono funzionare entrambi perché pubblici e canali diversi altro elemento è che qui per fare storytelling su questo vorrei soffermarmi e magari poi lasciarvi la parola occorrono competenze specifiche cioè non tutti possono fare storytelling e qui forse viene anche il ruolo e l'orgoglio di essere giornalisti cioè lo spazio a uno storytelling che si magari anche dal basso perché alcuni utenti lettori possono autoprodursi il loro storytelling però la capacità di leggere i fatti forse in questo caso qui chi lo fa di mestiere può avere uno spazio maggiore e poi la consapevolezza e lo diceva prima Celia di fatto testa e cuore parlavi di questa mescolanza di elementi ultimo è la struttura editoriale la capacità di impostare un bel piano editoriale anche nella creazione di storytelling e questo vale moltissimo per i progetti dei network editoriali allora ti rilascio quelle domande e quei punti interrogativi così magari ci dai il tuo punto di vista cioè contano di più gli aspetti tecnici o poi la parte dei contenuti e la parola e lo scritto che poi esce fuori allora io sono sospettissima proprio mi dichiaro colpevole perché io sono una che ama molto la tecnologia e sono una persona che vede la tecnologia in modo ottimistico però mi rendo conto e torno a citare Oliver Stone perché è una persona grandissima di grande sapienza quando le hanno chiesto perché nei suoi film non c'è non ci sono effetti speciali non c'è molta tecnologia e lui ha detto perché la tecnologia annoia io mi annoio quando vedo la troppa tecnologia nei film mi prende sonno mi disinteresso quindi raccontare una storia catturare l'attenzione parlare guardando qualcuno negli occhi anche metaforicamente si intende è un qualcosa che non è naturalmente appannaggio di tutti è un qualcosa che si impara a fare facendolo studiando molto un altro dettaglio che mi è tornato in mente raccontando la storia di Oliver Stone lui ha detto io ho avuto l'avventura di avere un padre che mi chiedeva di fare ogni settimana un racconto raccontami come è andata la tua settimana perché non si vedevano molto spesso e quindi diceva scrivimi raccontando la tua settimana e lui ha preso gusto a farlo ma lo ha fatto fin da bambino probabilmente questo lo ha appassionato ad essere un raccontatore di storie stessa cosa mi disse non perché io adesso voglia parlare di gente legata al cinema piuttosto che giornalisti perché giornalisti molto spesso sono figli d'arte ma a volte per esempio anche John Lasseter John Lasseter è quello che ha fatto tutti i disegni ha fatto la Pixar fa tutti i cartoon della Pixar e va in giro lo riconoscete subito perché va in giro con delle camicie con tutti i disegnini della Pixar è una persona meravigliosa perché è un bambino di 60 anni e lui disse che non si poneva nello stesso modo di vedere di un giornalista che deve raccontare fatti anche difficili lui diceva io devo creare mondi questi mondi possono essere anche totalmente inventati ma una cosa è molto importante devono essere credibili possono essere completamente innaturali come si è visto in molti dei suoi film ma su tutti i suoi personaggi tutti dal primo all'ultimo anche più cattivo è credibile cioè tu lo guardi e dici questo poteva esistere e quella è la forza narrativa di tutte le vicende da Toy Story quando hanno cominciato con Toy Story fino agli ultimi film che ha prodotto su cui ha lavorato John Lasseter allora abbiamo anche questo abbiamo sì abbiamo dieci minuti di tempo per le vostre domande se ci sono anche commenti anche non condivisione insomma di quello che avete visto che vi abbiamo fornito come spunti un'altra cosa che ci tenevo a dire perché essendo una persona sospetta che ama la tecnologia io penso per esempio in Rai noi lavoriamo a un lavoro con un gruppo di Rai News 24 che si chiama Web Lab e noi produciamo Web Doc Web Doc sono contenuti multimediali quindi noi lì abbiamo racconti che comprendono sia video che naturalmente ci sono delle interviste ci sono contenuti testuali ci sono schede ci sono grafici ci sono anche tracce audio di alcune cose che abbiamo fatto io credo molto in questa formula quando si parla di piattaforme perché funzionano molto bene sulle piattaforme forse un po' meno sul mobile però c'è da considerare che Web Doc dovrebbe essere anche un tipo di vetrina se lo provate vi rendete conto come richiede anche un'organizzazione mentale prima di farlo perché tu devi in un certo qual modo guidare la persona che vuole approfondire molto quello che sta vedendo e allora segue un certo percorso invece una persona che non ha tempo per farlo o vuole avere una visione di un argomento come il petrolio però se lo deve vedere tutto davanti per schemi allora Web Doc a questo serve ed è una forma di storytelling a più strati una narrativa molto interessante perché ci consente come giornalisti di usare formule espressive totalmente diverse tra di loro messe assieme quindi un video storytelling che è più da desk quindi da una fruizione più attenta e invece c'è un altro video storytelling che è più da mobile un po' più mordi secondo me sì domande eccoci qui iniziamo dal dalla persona lì vi chiediamo nome e cognome ed eventualmente testata sì io sono Alfredo Macchi e sono giornalista di Mediaset mi occupo molto di televisione quindi provocatoriamente adesso ascoltandomi mi veniva in mente che in fondo non sono cose tanto nuove ma sono quelle regole che Aristotele e Cicerone raccontavano nelle lezioni di retorica no? saper ascoltare saper conquistare il cuore conquistare la dialettica tutte quelle regole lì però questa è più forma il contenuto è sempre quello giornalistico di una volta cioè cambia forse un modo di raccontare allora qui ti chiedevo di spiegarmi un pochino meglio la cosa che hai detto all'inizio che il business dei media passa dal contenuto alle relazioni questa non mi è chiarissima allora io credo che che poi io credo io sono molto d'accordo col grande teorico del giornalismo anglosassone Jeff Cervis che sostiene questo cioè sostiene che in realtà il ruolo dei giornalisti si sta spostando dal mero sviluppo dei contenuti e anche dello sviluppo di prodotti di formati più complessi da quella produzione da quella realizzazione da quella costruzione anche alla relazione successiva rispetto a quella produzione cioè io penso che il tuo lavoro il mio lavoro il lavoro di molti sta cambiando anche proprio nella gestione del rapporto con l'utente una volta tu consigliavi un prodotto un filmato un rvm un servizio e la fine va lì in realtà adesso c'è tutta forse un'attività anche a posteriore di follow up se vuoi di interazione sui social media ecco Jeff Cervis quando parla di relazione si riferisce a quell'attività che in realtà di fatto ha moltiplicato forse il lavoro dei giornalisti ma anche dei comunicatori in senso lato cioè non basta più la produzione di un contenuto anche di video storytelling c'è tutto un lavoro a posteriore che è faticoso perché è ascolto e risposta ed è una risposta non è mass market è una risposta mirata a persona quindi credo che ci sia una complessità maggiore nel lavoro e magari giro il quesito anche a serie c'è una complessità maggiore nel lavoro c'è non c'è l'elemento novità quando si parla di raccontare una storia raccontare una storia è quello che facevano i nonni raccontare una storia hanno trovato anche elementi non molto tempo fa ho letto elementi significativi che fanno pensare che già si raccontassero storie ai tempi delle caverne come dove siamo adesso scherzo e quindi sì mi rendo conto lavorando per un canale televisivo che il servizio televisivo non basta io posso raccontare un qualcosa ma questo qualcosa poi vive altrove vive nei social network vive su facebook viene commentato su twitter viene rilanciato magari giorno dopo abbiamo un'altra versione delle cose e poi come potete facilmente notare un qualcosa che nasce in televisione o nasce sul web diventa qualcos'altro su un'altra piattaforma e poi grazie ai commenti alle interazioni del pubblico diventa un'altra cosa ancora avete mai notato questo è senso comune che quando vediamo un servizio in televisione ci piace lo guardiamo lo stesso servizio su facebook i commenti sotto il servizio non sono positivi cambia la nostra opinione rispetto a quel servizio questo accade sempre in continuazione prima con l'unicità dell'informazione io ti do un'informazione voi siete qui in realtà il mio obiettivo è quello di ascoltare non quello di raccontare io vorrei che lo storyteller fosse qualcuno in grado di suscitare nell'interlocutore la capacità di meditare mediare e poi dirla con il suo modo di vedere c'era un'altra mano alzata lì in fondo e ne avevo vista poi una anche lì buonasera io sono Beatrice Taccini sono una giornalista freelance e volevo sapere sempre riferimento al discorso multipiattaforma nello specifico quante e quali sono le piattaforme che consentono una diffusione di una storia a 360 gradi ce ne sono tante in realtà in un altro panel dello scorso anno sullo storytelling avevamo parlato era venuto è intervenuto Mark Little con Storyful e ci sono moltissime piattaforme che in realtà ti consentono poi di spacchettizzare quel contenuto e renderlo fruibile non soltanto per la parte testa ma anche per la parte multimediale se ti riferisci a piattaforme di condivisione di rilancio tu per esempio quali piattaforme utilizzi nella costruzione noi utilizziamo diversi tipi di piattaforme dalle più semplici che sono client alle piattaforme che esistono su servizi che perché ormai tutti offrono questo tipo di servizio non dovrei citare nomi commerciali ma è quello che conosciamo tutti ci sono piattaforme che usiamo su Vivo ci sono piattaforme che usiamo su Adobe ci sono piattaforme di Acrobat ci sono cose di Microsoft per la costruzione di WebDoc ma noi abbiamo fortunatamente un piccolo team agguerrito e multinazionale che lavora multinazionale nel senso che siamo un tunisino un romano una ragazza di Firenze un altro che è americano lavoriamo tutti insieme io sono Mix vado a sé col nome e lavoriamo tutti insieme a questo tipo di produzione ma abbiamo anche gli sviluppatori in HTML5 che è una cosa che noi usiamo per costruire le piattaforme di WebDoc parlo del nostro caso specifico è chiaro però ce ne sono talmente tante vi consiglio anche di fare un giro su piattaforme come iDocs e altre simili Storyfy è bellissima altre che utilizzano le aziende le aziende che oggi fanno racconto su web sono aziende che usano piattaforme molto molto interessanti perché sono molto duttili si aggiornano in continuazione è una rincorsa senza fine c'era un'altra domanda no? avevo visto una mano alzata lì in fondo ne prendiamo un'altra se c'è e poi lasciamo puntualmente lo spazio ad un altro panel sì noi abbiamo fatto i pionieri oggi eccola qui c'è una mano alzata qui e con questa domanda poi chiudiamo però qui subito dopo riparte un altro panel Sergio Ferrari sei direttore della rivista Quale Energia di Lega Ambiente mi stavo chiedendo mentre avete voglia le cose che avete fatto vedere che sono degli splendidi oggetti artigianali ma non per svilirli questo pensi quasi dei pezzi unici ecco questo tipo di linguaggio che viene apprezzato può entrare in maniera organica in una filiera editoriale cioè può essere ridotto a quei tanti pezzetti che sono un format editoriale e poi entrare in maniera organica all'interno di una produzione editoriale se sì in che maniera grazie stiamo parlando della forma della presentazione stiamo parlando diciamo cioè quando io faccio un articolo quando faccio un servizio per il telegiornale so che ha una sua forma ha un suo formato d'accordo quando faccio un articolo per un giornale so che ha 4.000 battute di testo 2.000 di box 3 fotografie eccetera per cui voglio dire è inserito in una filiera per cui voglio dire poi la fattura è molto agevole sotto questo profilo dal punto di vista del lavoro il mio dubbio vedendo queste cose è che ognuna sia un pezzo unico per cui voglio dire sia molto faticoso inserire all'interno di un flusso di produzione specialmente velocizzato come quello di internet cose di questo tipo penso che ci sia un tema di tempistiche e chi fa webdoc sa che ci vuole tempo uno dei primi che l'ha fatto in Italia è Riccardo Stagliano con i progetti di webdoc di Repubblica implica comunque molto tempo molta cura ed è un lavoro veramente customizzato artigianale quello che può fare la differenza è il modello anglosassone che viene utilizzato oggi di rilancio di quel contenuto cioè spacchettizzato e rilanciato in maniera diversa ad esempio sui vari social network twitter in testa lì forse ci può essere un trattamento differente un trattamento di teaser video un trattamento fotografico un trattamento quindi non soltanto testuale però mi piace molto il concetto di artigianalità di un prodotto di questo tipo perché per fare uno storytelling di questa fattura ci vuole comunque tempo e il tempo e chiedo anche a Celia forse qui chiudiamo è un tema importante in una redazione giornalistica guardate il tempo è qualcosa di veramente ci travolge io prima di venire qua sono arrivata a 15 minuti prima della presentazione stavo facendo un servizio per la televisione perché sono qua per lavorare soprattutto i tempi sono molto ristretti quello che posso notare è che punto primo il confezionamento di un web doc è un qualcosa di complesso richiede tempo però punto secondo le piattaforme evolvono continuamente noi ogni giorno scopriamo nuovi tool che ci aiutano a creare cose in maniera mirata perché ogni storytelling ha bisogno di un suo mezzo ma ogni giorno ci sono prodotti nuovi e c'è molta tensione anche da parte delle aziende che stanno fornendo questi servizi anche delle aziende di over the top i vari nostri che consultiamo tutti i giorni per motori di ricerca e che se cercate troverete tool per storytelling tool per web doc fatti pensati che possono essere anche come dicono scalabili per cose molto piccole per cose molto grandi per cose molto complesse per cose molto lineari oggi noi non possiamo limitarci a fare un servizio per la televisione se io ho una bella intervista una buona intervista ma in televisione mi concedono un minuto per raccontare la mia storia è evidente che se io ho cinque minuti poi me li gioco sul web questo è evidentissimo e a questo servono anche web doc si accelerano i tempi e arriveremo a Robo Storyteller perché di fatto i tempi saranno sempre più contingentati io vi ringrazio di essere stati qui in realtà il prossimo panel percorre ancora il filone dello storytelling lo storytelling in tv come sviluppare e costruire storie impossibili da dimenticare se poi volete restare qui in sala perugino grazie grazie a tutti